Benvenuti in un'altra puntata del TG RT4 Blog. La seguente notizia parla di Portogruaro, 62enne arrestato dai carabinieri per reati finanziari commessi nel 2011 nel milanese. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Portogruaro hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano di confronti di un 62enne di Portogruaro che dovrà scontare una pena detentiva di 5 anni di reclusione per reati finanziari commessi nella provincia di Milano nell'anno 2011. La persona distretta è stata condotta presso la casa circonduriale di Pordenone. La prossima notizia inizia così. Gruaro, Teglio, Veneto. Due spettacoli musicali giovedì 19 e venerdì 20 settembre per la rassegna dopo il festival. Il 42esimo festival internazionale di musica di Portogruaro prosegue con il cartellone dopo il festival all'interno del quale rientrano altri due appuntamenti del progetto speciale che si esprimerà nell'ambito delle peculiarità multiculturali e multilinguistiche delle comunità a confine tra Veneto e Friuli. Giovedì 19 settembre alle ore 21 presso la sala consigliare di Gruaro si terrà lo spettacolo, le danze friulane e i balli folclorici di confine tra passato e presente su musiche di Bach, Bragato e Cravos, eseguite dall'esembre di archi dell'orchestra giovanile filarmonici friulani con Alessio Venier nel ruolo di maestro concertatore e Angelo Floramo voce narrante. Venerdì 20 settembre alle ore 18 presso lo studio idee e materia di Teglio Veneto si terrà un approfondimento dedicato a Pasolini il friulano, un poeta musico, spettacolo musicale su brani dei compositori Mario Pagotto e Renato Miani interpretati dal soprano Anna Maria dell'Oste e i pianisti Francesca Sperandeo e Federico Lovato Lo spettacolo sarà arricchito dal workshop La lingua friulana nella musica d'oggi tenuto dai due compositori Eventi a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili Questa era l'ultima notizia di questo TG Ringrazio voi ascoltatori Vi aspetto alla prossima puntata del TG LT4 Blog Francesca Calzavara